ciao amici ciao amiche benvenuti in un nuovo vlog flash allora oggi è una bella giornata quindi me ne vado a pescare non faccio vlog perché comunque ne ho voluto fare uno ma mi è stato discriminato avete dato le peggio cose ma pazienza so io lo sport che che è cioè un conto andava a caccia vi dava ragione pazienza anche lì ci posso sopra non mi interessa niente l'importante che so io quello che faccio che mi diverto non faccio assolutamente male ai pesci quindi è una cosa che almeno quella mettete la bene in testa e poi vediamo un po non è che sto tutto giorno in cava perché comunque anche mia moglie ha diritto di fare andare dove vuole c'è la di la giornata la dividiamo in due per comunque qualche volta magari andrò anche da solo dato che qua dite che io sono c'è dite cose veramente brutte comunque non mi interessa perché io se vuoi andare in cava da solo posso andare benissimo secondo me a me piace la compagnia di mia moglie bene detto questo detto tutto e ci vediamo con un prossimo vlog flash ciao e buona giornata